vai 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 ma quest'anno cosa fate vincete o no sì come la birra o la birra bene bene ma avete finito o giocate ancora? peccato dai bravo dai che così così mi rimane un pezzettino di video va bene Buona, buona! Eh? Sto facendo foto o video? No no, video! Ragazzi, devo rompere il coglione un secondo! Purtroppo, colpa nostra! Purtroppo! 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 Se mi fanno mangiare, facendo una piastra alle otto. Questa è 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 una piastra alle otto. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Buonasera. 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 Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Fatto male Grazie a tutti 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 Vai Grazie a tutti Io Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buon Grazie a tutti Grazie a tutti Buon Grazie a tutti Buon 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 Va bene Buon 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 Buon